Michele Greco, una figura nota per l'attività sindacale ormai pluridecennale, lo possiamo dire, anche volto della volante del commissariato in prima linea sul territorio. La cittadinanza negli ultimi tempi ha vissuto momenti particolari per il fenomeno dei reati predatori, parliamo di furti in abitazione e per i furti di auto, ma anche per la recrudescenza dei maltrattamenti in famiglia, i reati individuati con il Codice Rosso. Allora, come dicevo anche prima nell'incontro che abbiamo tenuto questa mattina, il COISP da oltre vent'anni ha un registro, una forte presenza sul territorio, a salvaguardia delle istituzioni del Paese, a salvaguardia degli interessi dei cittadini. E questa grande nostra iniziativa, questa nostra voglia di fare sempre a servizio del cittadino nasce anche dalla grande disponibilità che abbiamo sempre incontrato nell'autorità giudiziaria, a cominciare dal nuovo procuratore della Repubblica, del quale veramente sono personalmente compiaciuto, delle sue iniziative, della vicinanza, del nuovo questore Tatarella e anche del nostro nuovo dirigente, dottoressa Finizio, che ha dimostrato e hanno dimostrato insieme che lavorando insieme, facendo un lavoro di squadra, si riesce anche a contrastare efficacemente i reati più comuni, da quelli che sono, rientrano nell'alveo del Codice Rosso, ai maltrattamenti in famiglia, nello specifico, a quelli che sono i reati predatori. Ovviamente noi ci aspettiamo che al turnover che ha portato qui a Termoli tanti giovani ci sia anche una risposta numericamente maggiore per consentire un maggiore controllo del territorio, perché attraverso il controllo del territorio noi riusciamo a contrastare efficacemente coloro i quali portano attività delittuose. Dicevo sempre, Termoli è una città importante non solo da un punto di vista turistico, non solo perché ha un porto, un'autostrada, numerosi centri balneari, ma anche delle strade attraverso i quali si veicola la criminalità. E solo con il controllo costante, battente delle nostre vie di comunicazione riusciamo ad intercettare sempre più sovente coloro i quali vengono a Termoli o nelle zone limitrofe con intenzioni delittuose e comunque contro l'interesse e la salvaguarda del patrimonio dell'amministrazione pubblica e privata.